Diciassettesima giornata che ha regalato moltissimi gol, moltissimi paregi e moltissime delusioni a chi credeva di mettere punti in cascina sotto l'albero. C'è chi però ha salvato la panchina e chi invece impreca con la mala sorte. Il Bari frena Palermo sul più bello e a due minuti dalla fine Lucca stronca i sogni di gloria dei galletti di Tana Uteri. In vantaggio grazie a Dursi al 45esimo minuto i pugliesi vengono ripresi dalla gemma dell'attaccante, sempre più certezza per mister Boscaglia. Cade il Teramo a Bisceglie e i ragazzi di Bucaro dopo oltre 6 sconfitte di fila, grazie a Musso a 10 minuti dalla fine, mettono, ed è il caso di dirlo, un regalone sotto le stelle natalizie. L'ex Paganese ha salvato la panchina al tecnico Foggiano. 1-1 il big match dal sapore playoff tra Catania e Catanzaro con i giallorossi di Calabro per l'ennesima volta raggiunti in questa stagione. Calabresi avanti con Di Massimo dopo soli 8 minuti. In zona Cesarini a salvare Raffaele è stato Manè. Ex Ploa del Poggia al Torre di Pagane, azzurro stellate al secondo K o pesante tra le mura amiche. Prima il Monopoli con un Tris, ora i Satanelli addirittura con un poker a Fossa Noerra. Doppietta per D'Andrea per i Rossoneri, poi per i Campani in gol Guadagni, che torna a segnare dopo tanto tempo. Ed ancora Curce e Rocca per Marchionni, Poggia a sorpresa indiscussa del campionato. Vince anche la Turris, che naviga nelle zone alte della classifica. Ormai certezza la squadra di Pabbiano. Nel presentare la giornata avevamo detto che se i Corallini volevano un campionato da vertice, dovevano cambiare Rotta Liguori. Cavese e K o 2 a 0 decidono Giannone al secondo gol di fila in casa. E Lorenzini, se Musso salva la panchina, Buccaro, compagnone decisamente salva quella di Ezio Lino Capuan a potenza. Il Mini One ritorna al successo dopo tanto tempo, in trasferta e soprattutto rovina i piani di scienza, che dopo il blitz di Pagani cercava continuità. Pareggio al Rocchi, la Viterbese viene raggiunta due volte dalla Virtus Franca Villa di Trocini. Taurino e i suoi passano in vantaggio con il primo rigore di Palermo. Basquets con il secondo penalty di giornata. Pareggio alla Contesa, ancora Palermo ed ancora su massima punizione, riporta avanti Giallo-Blu, che vengono nuovamente ripresi dal gol di Di Cosmo.